Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale YouTube. In questo video vi parlerò appunto di come le civiltà possono appunto collassare. È un argomento appunto riguardante sia la sociobiologia che anche l'antropologia medica, perché appunto io sul mio canale tratto anche questi tipi di temi, oltre a trattare anche argomenti di odontoiatria. Prima di iniziare comunque sia ti invito anche ad iscriverti al mio canale in modo tale che tu possa sempre rimanere aggiornato su tutti quelli che sono i contenuti che pubblico, perché parlo di argomenti di appunto medicina, odontoiatria e antropologia fisica, medica e dentale a scopo prettamente divulgativo. Quando una civiltà, una società va incontro al collasso? In questo video proverò a spiegarvelo, ma appunto per potervelo spiegare, come diceva appunto Isaac Newton, ve lo spiegherò andandomi a porre sulle spalle dei giganti, quindi sulle spalle di uno dei più grandi antropologi contemporanei, che si chiama appunto Jared Diamond, che ha scritto anche un libro su questo tema molto bello che vi consiglio di leggere e che si chiama appunto collasso e quindi cercherò appunto di farvi una analisi dei motivi per cui una civiltà, una società può appunto collassare. Se andiamo appunto a gettare l'occhio nel passato, anche quelle che sono le società più ricche e più tecnologicamente avanzate, anche queste possono collassare. Tante civiltà del passato sono andate appunto incontro a fenomeni di fallimento, e non dobbiamo appunto vedere la nostra società, il mondo occidentale in cui noi viviamo almeno in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, anche in Canada, come delle società intramontabili, certo potrebbero anche essere intramontabili per sempre, ma bisogna anche considerare che non sempre va così. Tante civiltà tecnologicamente avanzate del passato sono andate appunto incontro a declino, sono andate appunto incontro al cosiddetto collasso, perché appunto devono far fronte a vari tipi di problematiche, problemi per esempio ambientali o anche problemi di tipo economico. E li vediamo anche noi, diciamo, nei nostri giorni, questi tipi di problemi, problemi ambientali come per esempio lo scioglimento dei ghiacciai, l'inquinamento del pianeta, e così via, l'erosione del suolo, eccetera, sono problemi contemporanei che molto spesso vengono, diciamo, sottovalutati o ignorati, come vedremo più avanti nel corso di questo video. Ma, oltre che problemi ambientali, le società, anche quelle più ricche, devono far fronte a problemi economici. I problemi economici appunto noi li vediamo ovviamente anche adesso, i rincari per esempio dei prodotti di origine fossile, quindi praticamente il rincaro per esempio dei carburanti. Proprio in questi giorni abbiamo visto lo sciopero dei imbezzinai, tutto quanto collegato ovviamente al conflitto russo-ucraino, perché ad effetto domino per via della globalizzazione mondiale il problema di un solo paese si ripercuote ovviamente su tanti altri paesi. Molte società antiche non sempre sono riuscite a risolvere i loro problemi, quindi se questi problemi economici e ambientali per esempio non vengono appunto risolte, risolti adeguatamente, ovviamente la società ha maggiori probabilità di andare incontro al fallimento, quindi dipende da come ci si approccia alla crisi, al problema. E quindi possiamo vedere le società del passato che, le grandi civiltà che appunto sono andate incontro al collasso, comprendere i loro errori, capire la storia dal passato, trarne esempio e quindi cercare di evitare di ricommettere per esempio gli stessi errori. Ci sono poi state tante altre civiltà e società del passato che invece hanno avuto dei problemi ma sono riusciti ad affrontarli correttamente e quindi a evitare il collasso. E di questa società ne parlerò sia in questo video in cui farò degli accenni molto rapidi ma ve ne andrò anche a parlare in maniera abbastanza approfondita anche in altri video e per questo vi dico appunto di rimanere sintonizzati sul canale. Prima però appunto di andare a capire quali possono essere i fattori che determinano il collasso di una società, il collasso di una civiltà, dobbiamo un attimino fare un piccolo passo indietro e andare a definire, a dire che cos'è un collasso. Beh in realtà è difficile dare una definizione univoca. Bisogna appunto dire che il collasso è un fenomeno abbastanza complesso e può essere caratterizzato da vari aspetti. Il collasso può essere appunto caratterizzato da una riduzione drastica della popolazione oppure da una perdita della complessità politica economica e sociale di quella popolazione stessa oppure la conquista da parte di un'altra civiltà. Possiamo per esempio vedere ai nostri giorni l'attacco della Russia per esempio nei confronti dell'Ucraina e ovviamente questa può essere se non viene appunto gestita correttamente una causa di collasso per diciamo l'Ucraina, per il popolo ucraino. Oppure un colpo di stato che appunto va a comportare un rovesciamento del governo e quindi questo può comportare un collasso della società. Per esempio noi in Italia abbiamo come la storia ci ha insegnato, come abbiamo studiato tutti quanti noi alle scuole elementari, medie e superiori, abbiamo avuto appunto gli anni del fascismo e quindi ovviamente il colpo di stato fatto. Ovviamente sono fenomeni del passato da cui noi dobbiamo trarre esempio ed evitare di ricommettere appunto questi tipi di errori ma un collasso ovviamente va approcciato e gestito come dice Jared Diamond nella maniera più corretta. Quali sono però le società che hanno avuto un collasso? Beh se gettiamo l'occhio nel passato nella storia possiamo giusto andare a nominare alcune delle civiltà del passato che hanno appunto avuto un collasso quindi fare una lista molto semplificata ovviamente. Abbiamo i Maya nella regione che viene comunemente denominata come Mesoamerica e su di loro vi farò proprio nei prossimi giorni più che altro nelle prossime settimane o nei prossimi uno barra due mesi vi farò proprio un video specifico sul collasso della civiltà dei Maya portandovi vari aspetti bioantropologici e anche archeologici di questo tipo di civiltà. Poi abbiamo anche la Grecia in Europa oppure il grande Zimbabwe per esempio in Africa oppure la civiltà della valle dell'Indo in Asia o l'isola di Pasqua nel Pacifico oppure l'impero romano in Italia. Sono tutte quante delle civiltà antiche del passato che sono appunto andate incontro al collasso anche sull'isola di Pasqua quella con i famosissimi Moai andremo a fare un video bioantropologico specifico in cui appunto vi andrò a descrivere in maniera specifica tutto quanto ma appunto sarà un video a parte altrimenti questo video diventa troppo lungo. Abbiamo provato a definire in grandi linee cosa può essere un collasso e quindi da che cosa può essere caratterizzato diciamo un collasso stesso. Abbiamo visto che non c'è una vera e propria definizione univoca perché non è un fenomeno semplice. Abbiamo fatto alcuni esempi di alcune civiltà del passato che sono andate appunto incontro al collasso. Adesso vedremo quali sono quali possono essere le cause del collasso. Quali possono essere appunto le cause del collasso di una civiltà? Prima di avere ciò proviamo appunto a fare una piccola riflessione. Immaginiamo i turisti del futuro, immaginiamo di essere appunto negli anni 3000 non più negli anni 2000 quindi andiamo avanti di circa mille anni. I turisti del futuro potranno vedere per esempio le rovine di New York City per esempio quindi degli Stati Uniti d'America con un grande occhio di ammirazione e di sorpresa così come noi oggi vediamo le rovine per esempio delle civiltà maya? Chi lo sa? Ovviamente questo non lo sappiamo, non possiamo mai sapere come andrà la storia. Ovviamente soprattutto in questo periodo viviamo sull'orlo del timore di una paura atomica, l'ombra del nucleare, l'ombra dell'armageddon nucleare e quindi di una probabile fine del mondo proprio per questo o magari non proprio la fine del mondo ma allo stesso tempo una riduzione drastica della popolazione. Chi lo sa se questo accadrà? Ovviamente speriamo di no ma potrebbe anche essere il futuro che i turisti del futuro vedano con occhi appunto strabozzati le rovine di New York City o lo so di una qualsiasi altra parte del mondo. Ho fatto un esempio di New York City e quindi immaginiamoci appunto come potrà essere il nostro mondo del futuro ma quali possono essere appunto le cause del collasso di una civiltà. Andiamole appunto a vedere. Ovviamente l'elenco di queste cause che adesso vi farò è un elenco piuttosto semplificato. Vi andrò ad elencare cinque cause principali di possibile collasso di una civiltà che sono appunto poi le stesse che ha enunciato appunto Jared Diamond nel suo libro Collasso. Una prima causa può essere appunto un'eccessiva deforestazione quindi l'eccessiva rimozione praticamente di alberi e quindi una riduzione drastica delle foreste che comporta una distruzione degli habitat ambientali. Lo vediamo anche oggi tante patologie sono legate al fatto che i notevoli disboscamenti comportano l'avvicinamento di alcune specie animali ai centri urbani e quindi una maggiore incidenza di zoonosi cioè di malattie che si trasmettono dall'uomo all'animale e dall'animale all'uomo. Il coronavirus per esempio è un esempio molto classico di zoonosi per esempio ma anche la stessa zanzara anofale che praticamente va a trasmettere la malaria per esempio è legata proprio al fatto che i disboscamenti e anche poi la presenza di aree paludose hanno comportato l'avvicinamento di questa zanzara nei centri urbani o lo vediamo anche in Italia a Roma o in Puglia per esempio soprattutto a Bari il fenomeno dei cinghiali perché ci sono i cinghiali nelle città? Semplicemente perché anche qui c'è stato chiaramente un disboscamento importante per costruire centri urbani e ovviamente non avendo più il loro habitat i cinghiali o comunque essendo ridotto il loro habitat o avendo meno fonti di cibo o meno fonti idriche appunto per poter bere eccetera questi animali per trovare nuove scorte di cibo tra virgolette si avvicinano ai centri urbani ma è tutto legato appunto alla deforestazione e alla distruzione di un habitat. E' chiaro che questa eccessiva deforestazione in una società comporta la fine delle risorse stesse di quella civiltà. Se ovviamente consumiamo tutto il legno che gli alberi ci possono dare in buona sostanza non avremo più altro legno e quindi e poi ci sarà una lotta in buona sostanza per le ultime risorse rimanenti sul pianeta come è accaduto in tante società del passato che per esempio finivano le risorse finiva il cibo si andava incontro a fenomeni di carestia e per poter sopravvivere andavano ad adottare pratiche di cannibalismo ma anche di cannibalismo faremo dei video a parte quindi rimanete sul pezzo rimanete sintonizzati sul canale. Quindi riassumendo una prima causa di collasso di una civiltà può essere appunto la deforestazione o la devastazione dell'habitat. Una seconda causa di collasso di una civiltà può essere per esempio legata a una cattiva gestione delle risorse idriche per esempio e quindi un eccessivo consumo per esempio di acqua e sentiamo se in Dallas Conlementari ci hanno sempre fatto in Italia diciamo una cultura sul come risparmiare l'acqua su quanto l'acqua possa essere appunto un bene prezioso ovviamente. Una terza causa può essere per esempio un eccesso di caccia o anche di pesca perché ovviamente va a ridurre la fauna terrestre e ovviamente anche acquatica marittima e quindi ovviamente la quantità di cibo disponibile si riduce drasticamente e quindi ovviamente banalmente c'è il meno cibo per tutti, carestia e quindi è molto difficile poi sopravvivere. Si instaura una lotta per la sopravvivenza per poter cercare di sopravvivere, come è accaduto in molte civiltà del passato che finendo appunto le risorse alimentari per eccessiva caccia o pesca ovviamente poi hanno dovuto cercare di trovare altre fonti alternative molto spesso di cibo e molto spesso ovviamente sono andati incontro al collasso e quindi ovviamente ridurre in maniera ragionevole il consumo di carne è un aspetto molto importante proprio per questo motivo ma anche per gli impatti che l'eccessivo consumo di carne può avere sulla nostra salute e anche a livello ambientale. Se le gente parlare oramai tantissimo per fortuna le cronache sono piene e quindi ovviamente rallentare un pochettino questo tipo di fenomeno sarebbe ovviamente ottimo perché la produzione di carne è stato visto negli ultimi anni è aumentata drasticamente ma oramai non parliamo più di una carne allo stato naturale. Se pensiamo a un semplice hamburger è già molto lontano dalla carne allo stato naturale che il neandertal mangiava per esempio si parla di carne l'hamburger è una carne destrutturata si sente anche parlare molto spesso di possibili prospetti per quanto riguarda la preparazione di carni sintetiche in laboratorio fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi siete a favore o a sfavore di ciò in questo video non mi esprimo magari vi posso fare proprio un video a parte su questo tipo di argomento. E poi ancora tra le altre cause di collasso abbiamo appunto anche l'introduzione di nuove specie all'interno appunto di un habitat quindi l'ultima causa di collasso di una civiltà è appunto la sovra popolazione il sovra affollamento anche questo comporta ovviamente più bocche da sfamare all'interno di una società e quindi più uso del pianeta stesso per poter sfamare tutte queste bocche con conseguente fine delle risorse stesse quindi come potete vedere le varie cause di possibile collasso di una società sono comunque sia strettamente connesse e intersecate tra di loro non vanno viste appunto a compartimenti stagni perché appunto diciamo la stessa antropologia medica biologica scientifica fisica eccetera è una scienza di ampio respiro. L'aumento della popolazione infatti comporta un'intensificazione dell'allevamento e della agricoltura stessa proprio per poter sfamare più bocche. Oramai siamo 8 miliardi sul pianeta fino a qualche anno fa eravamo 7 miliardi quindi la popolazione sta aumentando sempre di più anche se si ritiene che poi questo aumento demografico tenderà a un certo punto a bloccarsi verso il 2050 dicono gli esperti. Ovviamente questa intensificazione dell'allevamento dell'agricoltura comporta una carestia perché ovviamente la quota di risorse disponibili sul pianeta si riduce e quindi si fa la guerra per le risorse residue e questo ovviamente comporta anche l'insorgenza di malattie da malnutrizione da scarsa igiene e così via. Queste cause che noi abbiamo visto queste cinque cause sono quelle cause di collasso che hanno caratterizzato le società del passato ma queste stesse cause queste stesse cinque cause che vi ho detto riguardano anche le nostre società contemporanee con la differenza che nelle società contemporanee abbiamo delle cause dei rischi aggiuntivi di collasso rispetto alle società del passato e quali sono questi rischi aggiuntivi? beh i cambiamenti climatici ai quali stiamo assistendo per esempio lo scioglimento dei permafrost o per esempio l'effetto serra che è un fenomeno naturale ma se in quantità eccessiva ovviamente comporta problematiche l'inquinamento atmosferico e quant'altro vedete per esempio in Cina che pur essendo una grande nazione una grande potenza una grande nazione anche dal punto di vista storico è molto avanzata in forte sviluppo eccetera 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 però l'inquinamento ambientale è notevole vivere in una grossa città della Cina equivale praticamente a fumare due pacchetti di sigarette al giorno per esempio quindi tra i rischi aggiuntivi che hanno le società moderne abbiamo appunto i cambiamenti climatici l'inquinamento ambientale il deficit di risorse energetiche ed è per questo che intelligentemente l'uomo sta cercando anche di trarre energia da fonti rinnovabili appunto come sappiamo benissimo e poi l'ultimo rischio è l'esaurimento della capacità di fotosintesi della terra stessa e quindi questa è un'altra causa potenziale di collasso ma vivere nel nostro mondo contemporaneo questo video magari fino a questo punto vi può sembrare un video prettamente pessimistico ma in realtà vivere nel nostro mondo nel mondo contemporaneo presenta dei vantaggi comunque sia degli svantaggi vivere nella nostra era rispetto ai tempi del passato offre sicuramente dei vantaggi indiscutibili a partire dalla potente tecnologia che noi appunto disponiamo dai satelliti che oramai arrivano nello spazio siamo arrivati appunto con i satelliti su marte alla potente tecnologia che hanno anche i nostri smartphone anche lo smartphone che non è top top di gamma e medio gamma già oggi ci permette di avere appunto delle capacità incredibili che fino ad anni fa erano impezzabili per esempio la potente tecnologia anche per quanto riguarda per esempio le auto e si parla oramai sempre di più della guida autonoma che sicuramente nei prossimi anni arriveranno e tutti questi aspetti ovviamente di potente tecnologia anche in ambito medico ovviamente la tecnologia sta andando avanti se si butta l'occhio sul futuro sicuramente la medicina del futuro sarà quella basata appunto sulla medicina dove appunto operano per esempio dei robot al posto dell'essere umano per esempio però questa potente tecnologia che è un grande vantaggio per i sapiens allo stesso tempo è la stessa tecnologia che può dare degli effetti distruttivi delle teri con la potente tecnologia siamo arrivati ad avere l'energia nucleare quindi a sfruttare l'energia dell'atomo per esempio quindi a costruire anche le centrali nucleari ma allo stesso tempo quella stessa energia quello stesso tipo di sviluppo tecnologico ha comportato i disastri atomici rappresenta ancora oggi il rischio col conflitto russo ucraino di un escalation atomica quindi ovviamente come vedete la potente tecnologia è in vantaggio ma allo stesso tempo uno svantaggio la globalizzazione mondiale è un altro vantaggio e svantaggio allo stesso tempo del nostro mondo contemporaneo perché la globalizzazione oramai ci permette di comunicare nell'arco di pochi secondi con una qualsiasi persona presente su qualsivoglia parte del globo terrestre di vedere sul web una città lontana un video di una città lontana di un posto lontano in pochi secondi di poter acquistare prodotti da qualsiasi parte del mondo e così via e quindi è un grossissimo vantaggio o di poterci spostare da una parte all'altra del pianeta terra in tempi relativamente brevi cosa che fino anche a mille anni fa era impensabile o meglio era molto più complesso ovviamente ma quella stessa globalizzazione comporta che appunto se un paese ha un problema economico questo problema economico di questo paese si va a ripercuotere come ad un effetto domino sul resto di tutti gli altri paesi per esempio anche il grano in ucraina per esempio perché l'ucraina è produttrice di grano questo ovviamente si riberbera sull'unione europea tra gli altri vantaggi che abbiamo appunto nel nostro mondo contemporaneo possiamo anche pensare alla medicina moderna alla medicina contemporanea aumentato diciamo la sopravvivenza degli individui la medicina moderna in una maniera incredibile e che ovviamente il fatto che grazie alla medicina moderna tante persone che prima morivano adesso si salvano per fortuna grazie alla medicina moderna di rimando ha comportato un drastico aumento della popolazione stessa con problematiche di sovraffollamento basti pensare al giorno d'oggi che malattie come la fenilchetonuria o anche alcune forme per esempio il diabete 2 o addirittura alcune forme di cancro adesso si riescono pure a cronicizzare con alcuni tipi di terapie intelligenti con gli anticorpi monoclonali tutti questi aspetti ovviamente sono un vantaggio ma allo stesso tempo uno svantaggio perché riducono per esempio la selezione naturale comportano un sovraffollamento una sovrappopolazione e come abbiamo visto prima la sovrappopolazione è stata nel passato una delle cause appunto aumento della popolazione del collasso di molte civiltà del passato e vi ho spiegato prima come l'aumento della popolazione può creare problemi perché appunto intensifica l'agricoltura l'allevamento finiscono le risorse si va incontro a carestia e quindi ci sono delle guerre per le risorse residue eccetera 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 e quindi diciamo possiamo dire che è importante imparare dal passato per avere un presente e un futuro migliori questo è l'aspetto ovviamente più importante ma non è tutto appunto pessimistico perché alcune civiltà del passato pur avendo avuto dei problemi molto seri non si sono mai estinte come mai alcune popolazioni sono si sono estinte sono andate incontro al collasso e altre popolazioni invece no proverò appunto a spiegarvelo in maniera semplice tutto sta alla base del fatto che quando ci sono appunto delle crisi dei problemi vanno risolti appunto i grandi problemi ambientali per esempio se si risolvono i problemi ambientali che una società ha quella società più probabilità di non collassare di non estinguersi un altro fattore che gioca un ruolo chiave è la presenza o assenza di nemici se quella società ha dei partner alleati che possono dare degli aiuti economici o qualsiasi tipo di aiuto ridurrà ovviamente tutto ciò il rischio di avere un collasso se invece ci sono presenti dei nemici ovviamente il collasso avrà maggiori probabilità di esserci anche perché ci può essere anche il rischio di un attacco militare per esempio e quindi poi anche tutti questi aspetti si vanno anche a collegare alle istituzioni ai governi cioè una società ha meno probabilità di estinguersi se ha dei governi delle istituzioni che offrono una concreta risposta ai problemi proprio per evitare il collasso della stessa quindi un ruolo importante delle istituzioni forse l'aspetto più importante di tutto ciò è proprio svolto dalle istituzioni lo si vede con il classico esempio appunto tra la repubblica dominicana e haiti che sono due stati che praticamente si ritrovano sulla stessa isola uno è più povero e l'altro più ricco ma di questo vi farò proprio un altro video a parte perché appunto siamo già a 24 minuti comunque sul problema ambientale in generale che noi viviamo contemporaneamente ci sono due teorie cioè una teoria più ambientalista e quindi diciamo ci sono appunto quegli uomini quegli individui quei sapiens che ritengono appunto che il problema ambientale attuale sia da risolvere tanti uomini di affari filantropi per esempio si preoccupano di ciò come per esempio bill gates e poi c'è invece una teoria più economista che sono appunto di solito quelli delle grandi imprese ma non tutti perché abbiamo visto che sono anche diciamo dei grandi imprenditori come bill gates che comunque si preoccupano dell'ambiente ma quelli dalla sponda più economista si preoccupano maggiormente appunto della crescita delle grandi imprese ma se non si risolve il problema ambientale tutto questo comporterà un deterioramento delle foreste una perdita delle terre coltivabili e un drammatico calo di quella che è la biodiversità e per questo appunto che bisogna imparare dal passato per avere appunto un presente e un futuro migliore io con questo video appunto di antropologia medica ho terminato se il video vi è piaciuto mi invito appunto a lasciare un mi piace iscrivervi al canale a condividere il video con altri tenti in modo appunto da far crescere sempre di più questa community e quindi avere una community sempre più bella e ci rivediamo con i prossimi con la prossimi con i prossimi video di questa serie di video dell'antropologia dove appunto vi parlerò del montana e poi ancora nell'altro video ancora che farò dell'isola di pasqua con i suoi moai è chiaro che in parallelo io pubblico anche video di odontoiatria video di bioetica medica o comunque sia video riguardanti l'ambito della medicina però poi tutti i miei video sono suddivisi sul mio canale all'interno delle specifiche playlist come se fossero delle miniserie sono suddivisi appunto per argomenti quindi trovate la playlist di ortodonzia la playlist di non lo so fisiologia umana anatomia la playlist di antropologia in modo tale che poi appunto l'utente possa appunto orientarsi in maniera congrua traghettando appunto all'interno del mio canale vedendo appunto i temi gli argomenti di suo maggiore interesse qualsiasi cosa tu voglia scrivermi puoi appunto scrivermi qui sotto nei commenti o contattarmi nella mail diciamo che sta nelle info del mio canale ti ringrazio se sei arrivato fino a questo punto del video e ci vediamo al prossimo video ciao